Una cosa inaccettabile, irresponsabile, intuitivamente sembra fin anche criminale, ma non sta a me accertarlo e quindi abbiamo fatto tutte le denunce e tutti gli esposti. Posso aggiungere che stamattina ho personalmente chiamato anche il prefetto. Ieri il mio capo di gabinetto si è sentito anche con esponenti della questura, ne abbiamo parlato in comitato, credo che tutto questo è assolutamente inqualificabile e inaccettabile. Poi abbiamo dato mandato per quello che può valere, come direttiva politica, perché poi come sapete ogni azienda ha i suoi responsabili, il sindaco non è che fa né il conduttore delle funicolari, però ci carichiamo di una direttiva che potrebbe anche non competerci, ma proprio perché abbiamo a cuore la vita di questa città e i diritti dei cittadini, oltre che dei lavoratori, quello di mettere in campo le procedure per fare assunzioni a tempo determinato, perché la città non può essere sotto scacco di uno, due, tre, quattro persone che guarda caso, guarda caso, si ammalano sempre quando viene data la direttiva di rafforzare sempre di più il servizio pubblico. Penso che nemmeno un bambino di tre anni può credere che ci troviamo di fronte a malattie vere. Io non ci credo, mi dimostrassero il contrario, che ci troviamo di fronte a un'epidemia diffusa, che ci troviamo di fronte addirittura a chi confessa queste cose, perché se vi leggete qualche documento sindacale ci troviamo di fronte quasi a una confessione di quello che si stava precostituendo e preparando, non possono essere tre, quattro persone a tenere sotto scacco la città. Siccome noi in questi anni per salvare l'azienda, che ovviamente non abbiamo potuto assumere, si possono adesso, avendo salvato l'azienda, fare i prolungamenti serali, li si possono cominciare dal fine settimana per le funicolari e le metropolitane, da gennaio lo si può addirittura fare tutti i giorni, ci sono soldi, abbiamo salvato l'azienda, i lavoratori vengono pagati in regola ogni mese, miglioreremo sempre di più la dignità dei lavoratori, ma consentitemelo, oggi è venuto il momento di non umiliare un popolo. Poche persone irresponsabili stanno mancando di rispetto ai napoletani che vanno a lavorare e si trovano per colpa di irresponsabili dei servizi chiusi, una città dove già il trasporto, come sappiamo, non funziona come tutti noi vorremmo, ma che stiamo creando le condizioni perché finalmente possa funzionare bene. Quindi c'è qualcuno che evidentemente pensa di voler vivacchiare come si faceva una volta, invece no, noi vogliamo un grande servizio pubblico, con un grande rispetto e una grande valorizzazione dei lavoratori e un servizio che abbia rispetto dei cittadini e che quindi sia efficiente. Tra questi c'è il prolungamento dei servizi la sera, pagando le persone, rispettando i lavoratori, rispettando i contratti e quindi a questo punto cominceremo, visto che abbiamo salvato l'azienda, abbiamo anche le risorse economiche, cominceremo a fare un po' di contratti a tempo determinato. Non penso che poi si metteranno 20, 30, 40 persone in malattia, poi a quel punto contatteremo l'ASL, vedremo se in città c'è qualche epidemia contagiosa che si concentra evidentemente in 7 metri quadri della città e mi auguro pure, avendo fatto il magistrato, che insomma prima o poi questi non diventino storia di ordinaria mal comportamento o di così di influenze che vanno e vengono, ma che se ci sa qualcuno che dirige queste operazioni criminali che venga scoperto, perché voglio dire abbiamo forze dell'ordine capaci di poterlo accertare e magistrati autonomi e valorosi capaci di fare indagini anche in tempi brevi. solo attende l'amministrazione e solo attende anche la città.